Gennaio e febbraio 2011, classe, prestigio e qualità nei supersaldi del mobilificio Rudiana di Bassano del Grappa. Come ogni anno e quest'anno ancora di più. Da Rudiana liquidiamo e scontiamo mobili artigianali in legno massello e legno antico, a prezzi di realizzo. Bellissime sale da pranzo complete di credenza e cristallieri con sconti del 30 e 40%. I più bei tavoli d'Italia, quadrati, rettangolari, ovali, rotondi, allungabili e non, con splendidi dintarsi, con sconti fino al 50%. Da Rudiana i mobili sono realizzati manualmente nel nostro laboratorio di falegnameria e lucidatura, che utilizza metodi artigianali, manuali e tradizionali che danno ai nostri mobili un certo prestigio. Attenzione, solo i mobili presenti nel negozio sono in liquidazione. Troverete prezzi fortemente scontati per poter permettere di reperire liquidità. Gennaio e febbraio 2011, classe, prestigio e qualità nei supersaldi del mobilificio Rudiana di Bassano del Grappa. Occasioni uniche e irripetibili come unici e irripetibili sono i nostri mobili in saldo. Camere artigianali complete di armadio, comoco, modini e letto a prezzi scontatissimi. E le taverne con tavoloni, frattini massicci e credenzoni rustici in rovere, noce e legno antico con sconti del 40%. Troverete studi con splendide scrivanie, anche professionali, e librerie in legno massello con essenze di noce e legno antico a prezzi scontati fino al 50%. I prezzi parlano da soli e i mobili sono garantiti dalla classe, il prestigio e la qualità del marchio Rudiana. Gennaio e febbraio 2011, questo è il momento giusto. Non perdete i saldi, saldi, super saldi del mobilificio Rudiana. Siamo aperti tutti i giorni della settimana, compresi il sabato e la domenica, sia al mattino che al pomeriggio. I salotti in pelle pregiatissima, sauvage e cuoio o splendidi salotti in tessuto scontati del 30%. Bellissime e funzionali le pareti attrezzate costruite nel nostro laboratorio di falegnameria in noce e legno antico con sconti del 40%. E se non trovate quella giusta da Rudiana, le pareti attrezzate si possono realizzare su misura, così come le cucine artigianali realizzate in legno massello con essenze di noce, ciliegio e legno antico. Gennaio e febbraio 2011, classe, prestigio e qualità nei super saldi del mobilificio Rudiana di Bassano del Grappa. Tutte le offerte, le informazioni e il nostro catalogo di mobili li potete trovare sul sito www.rudiana.com. Visitate il nostro sito e inviate una mail con qualsiasi richiesta. Non dimenticando di lasciare il vostro recapito telefonico, sarete contattati e serviti al meglio. Pagamenti a 12 mesi senza interessi e sino a 5 anni con interessi minimi. Siamo aperti tutti i giorni della settimana, compresi il sabato e la domenica, sia al mattino che al pomeriggio. Ci troviamo nella sede unica e sola di Bassano del Grappa. Siamo solo a due ore di strada da Bologna e due ore da Milano. Gennaio e febbraio 2011, classe, prestigio e qualità nei super saldi del mobilificio Rudiana di Bassano del Grappa. Venite a trovarci!